Un calendario per celebrare il Mediterraneo e tutte le attività produttive che si sviluppano nel Mare Nostrum, senza dimenticare l'importanza del controllo dei prodotti e delle attività illecite. Cosa resterà del Mare Nostrum? Questo è il titolo del calendario, ma anche un interrogativo importante affinché la condizione del mare possa migliorare e ci possano essere maggiori controlli. L'assessore al lavoro, attività produttive e commercio del Comune di Napoli, Enrico Panini, sottolinea l'importanza di non isolare il porto di Napoli, che deve diventare uno degli snodi principali della città. La prima industria di Napoli è il porto e la città e il porto vivono come separati in casa. Non va bene. Significa affrontare il tema del mare, affrontare il tema dell'anticontraffazione per i prodotti, il controllo delle merci, la qualità delle merci. Significa avere un porto efficientissimo che sdogani nel più breve tempo possibile i traffici in modo da diventare un vero ponte fra i paesi dell'Africa in modo particolare, l'Europa e il Nord Europa in modo specifico. Significa affrontare i temi del rapporto fra la nostra città e città rivierasche che hanno una questione che è quella della crescita, del lavoro, dell'occupazione. Significa essere davvero la capitale del Mediterraneo. Agnillo Cuomo, capitano di Vascello, evidenzia quanto sia stato fatto in questi anni per combattere il fenomeno del commercio illegale. Queste iniziative servono a far capire che è importante la tracciabilità, è importante che il pescato rientri nelle norme previste. Perché? Perché la funzione di tutela dell'ambiente serve ad assicurare anche agli altri la possibilità di poter ancora disporre di un patrimonio che si va depoeporando. ma nello stesso tempo nel migliorare la qualità c'è un maggiore accesso al mercato da parte dei consumatori e quindi pur contenendo lo sforzo di pesca si possono ottenere delle condizioni economiche sicuramente migliori per l'economia della pesca.